Preghiera del mattino Dio, Padre nostro, Tuo Figlio ci ha detto che nella nostra disgrazia possiamo rivolgerci a Te. Tu l'hai mandato per essere il Tuo Salvatore e aiutare tutti quelli che, prigionieri della loro miseria o della loro colpa, non hanno nessuno che voglia e possa aiutarli. Noi, che facciamo parte del Tuo popolo, Ti ringraziamo di poterci rimettere oggi alla Tua provvidenza e al Tuo Figlio che è attento a noi. Mettiamo tutte le nostre preoccupazioni e tutti i nostri impegni nelle Tue mani per sottometterci con fiducia alle esigenze di questa giornata. Ti raccomandiamo tutti quelli che soffrono, che sono disperati, senza coraggio di vivere. Tu li aiuterai e per tutti quelli che hanno oggi bisogno del nostro sostegno, fa che noi conserviamo il cuore e gli occhi aperti. La Tua buona volontà si compia in tutti gli uomini. Amen.